Ho preso un monitor, un apparecchio ventilatore e set per una centrale. Io ho della fisiologica pompe da infusione, defibrillatore e Cristina. Scusi, mi hanno soprapporto. Meno persone lo sanno, meglio è ragazzi. Ho portato i miei macchi. No, non mi servono matricole. Ci sono tre uscite interne. Hai la sentinella a una. Gongolo, coda di cavallo, voi sorvegliate le porte. Topolo, fai l'infermiera. Ci servono i guanti. Perché devo fare l'infermiera? Ci servono delle luci. Se non accendo altre sul soffitto, si vedranno dal corridoio. Pronto? Sì. Ok. Bene, stanno arrivando. Corriamo. Oddio. Tutto ok? Tutto ok? La porta non si apre. Attenta alla flessa. April, che succede? Non lo so, Jackson. Tiriamo. Jackson! Sta venendo. Più forte, più forte. Levati, Merdy. Non solo perché ho l'utero occupato. Levati, non scherzo. Lasciami il posto. Ehi. Tranquillo. Ho mollato la mia PR prima di venire qui. Come sapevi che... L'ho chiamato io. C'è un bambino. Ci servono attrezzature per bambini. Ho portato un carrello pediatrico bene equipaggiato. Ok, ragazzi, il mio tre. Uno. Due. Tre. Dai. Ci siamo. Dobbiamo intubarlo immediatamente. Avevamo tubi solo da venti e da ventidue sul posto. Prendo una vena centrale. Ringer lattato. Eccolo. Fatto. Vedo le corde vocali. Curando sta agendo. Allora, mi serve un tubo. Cassetto arancione. Cassetto arancione. Lo sapevo. Niente suono chiaro polmonare a destra. Drenaggio toracico. Ho visto il betadine da qualche parte. Aspettate, abbiamo un drenaggio toracico. Sto cercando di far andare la fleboclisi e questa cosa continua a fare bip. Mi aiutate? Ci provo io. Non lo trovo, ma ho un sonnino nasogastrico. Qualcuno all'aspiratore? Ce n'è uno portatile nell'ambulanza. Ok. Vado a prenderlo. Grazie. Stanno arrivando. Luci. Vi è libera. Sono dentro. Brooks, l'ossigeno. Per cui il dottore Evri sta riposando? Ama riposare tra un'operazione e l'altra. E careva aveva appuntamento dal dentista. Anche i medici vanno dal medico. Intanto, avete visto il laboratorio dove il dottore Evri coltiva pelle vera? Seguite. Eccomi, ce l'ho. Aiutami ad assicurare il sonnino nasogastrico. Attaccalo, così asperiamo. Chi è l'ecografo portatile? Non l'abbiamo. Gongolo? Vado. Wilson, vieni qui. Ci servono altre mani. Se il bambino muore perché ti sei portato la rossa in gita romantica... In gita romantica? 4x4 per l'emorragia sul cuoio capelluto. Tre flebopronte, dopamina 5 microgrammi pro chilo al minuto. Va calcolata la velocità di infusione. Per i bambini varia a seconda del peso. Chi ha una calcolatrice? Cedo sempre l'infermiera. Io non sono un'infermiera. Il broslo indica 30 chili. Lo stampa di dopamina è 1600 microgrammi per cc. 5x30 è 150. Per 60 minuti è 9000. Diviso 1600. La velocità di infusione è 5,625 cc l'ora. Che c'è? Sono forte in matematica. Ok diamogli 5 cc e 6. Ma non abbiamo la dopamina ragazzi. Non abbiamo accesso a nessun tipo di farmaco se non c'è un infermiere o un codice. Ora lo avete. Hai chiamato anche lui. Servivano medicinali. Io ho i codici. Ditemi che cosa vi serve. Grazie. 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 Grazie.